L'egovisto è una realtà di povertà assoluta. In questo villaggio dove noi abbiamo girato il film non c'è luce, non c'è acqua, non c'è gas. Però nonostante questo la gente lì vive. Quando avviene qualcosa di tragico, a quel punto ecco che avviene la rottura. Cioè bruciano un villaggio, uccidono le persone. Questi due bambini nel caso nostro del film sono gli unici che si salvano insieme con un vecchio. E questo vecchio gli dice ora voi non potete più rimanere qua, andate da mio figlio che abita in Svezia. Loro non hanno idea di che cosa c'è in mezzo tra il loro paese e la Svezia, tra il loro paese e l'Europa. Non sanno che devono attraversare il deserto, non sanno cos'è il mare. Quindi non hanno idea di cosa significa attraversare il mare mediterraneo. Ecco tutto questo è un problema che io credo sia fondamentale, centrale per noi europei. Perché dobbiamo capire. Io questo film l'ho fatto perché credo fortemente che attraverso la comprensione delle cose, prima di una fratellanza, prima di una tolleranza, prima di un'idea, di accettazione, diciamo di questa realtà c'è bisogno di comprendere, di capire. Nella vita normale mi occupo, lavoro in ospedale, mi occupo anche di immigrazione di accoglienza. L'aspetto di Palermo quando arrivano gli immigrati facciamo accoglienza, la prima accoglienza. La sua esperienza però, questo cuore piccolo, allora le ha facilitato l'entrare nel personaggio, in quel Marocco particolare? Mi sento commovente nell'attimo in cui proprio ritornare in mente certi episodi che ho vissuto proprio nella realtà in quel afterwards la voce mettia in ascoltanti. Alesso è il준ico, uno del nostro corpino. Ciao. Grazie.